Il suo nome è Gigi, Gisela, Rossano, Chris, Baracco, I'm Tommy, Tommy, sono Tommaso, siamo in Perturbazione. Ci sono sicuramente tanti italiani e questo è bellissimo. Allora, vogliamo dire alcune parole in inglese, perché è una forma migliore di presentare a te stesso e di dire, ciao, grazie, siamo contenti di essere qui. Quindi, abbiamo fatto l'accordo. Quindi, l'ultima canzone, credo, se mi ricordo bene, è di sentire molto caldo nel vero. Agosto, è il mese più freddo dell'anno, l'inverno si sposta sei mesi davanti e non è il Polo Sud, qui non è il Polo Sud. Agosto, la sveglia che rompe il silenzio, qualcuna in vacanza e lei suona per ore, che freddo che fa, io che freddo che fa. Agosto, ti affacci sul cuore malato, le cinque di sera ed è già buio pesto, l'inverno d'agosto, il ghiaccio si posa e ricopre le cose. Se non è vero che hai paura, non è vero che ti senti solo, non è vero che fa freddo allora perché tremi. Se non è vero che hai paura, non è vero che ti senti solo, non è vero che fa freddo allora perché tremi in questo agosto. Agosto è scritto sul tuo calendario, forse hai dormito sei mesi ma sei così stanco, tanto stanco. Se non è vero che hai paura, non è vero che ti senti solo, non è vero che fa freddo allora. Perché tremi in questo agosto. Qui ci senti solo. Grazie.